E ora la Befana dei pallavolisti. 24 squadre e oltre 200 atlete impegnate in tre palestre, Verres, Uone e Arnà, per la non edizione del torneo giovanile della Befana di pallavolo, la quinta ospitata in Regione dopo le prime tre edizioni svolte a Torino, organizzato dall'Evanson Volley e patrocinato da UISP Valle d'Aosta e UISP Pallavolo Piemonte. Le giocatrici, rappresentanti di squadre valdostane e piemontesi, si sono sfidate in gironia all'italiana divisi per categorie, dall'Under 15 all'Under 18. Così Pietro Cinquino, responsabile della pallavolo Piemonte UISP. A Verres dove giocano la 12, la 13 e la 14. A Onn gioco la categoria Under 17 e 18. Chiude Arnà dove giocano Under 15 e Under 16. La presenza di centinaia di persone tra atleti e accompagnatori rappresenta un'opportunità per il territorio, come dimostra l'aiuto dato dalle autorità comunali coinvolte. Abbiamo riempito tutti i band and breakfast, gli agriturismi, con i genitori ci saranno una cinquantina di persone. Poi nei ristoranti ci saranno all'incirca, non lo so, 200 pasti oggi, 200 stasera, quindi è un bel indotto anche per loro. Devo ringraziare sicuramente i comuni di Verres e di Arnà che ci hanno dato le palestre e di Onn soprattutto che ci ha dato anche Polivalente per riuscire a fare la manifestazione. Poi il resto, tutti quanti i genitori, tutti quelli che ci danno una mano. L'organizzazione, in un'ottica di socializzazione e di amicizia tra le ragazze, ha previsto alla sala Polivalente di Onn una notte, quella tra il 5 e il 6 gennaio, dedicata alle giocatrici con tanto di sacco appello alla presenza di alcuni genitori.